Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Un drammatico incidente nel giorno di Pasqua lungo le strade dell'Aretino nel quale ha perso la vita un uomo di 47 anni. Vediamo il servizio. Alessio Bencivenga è l'ultima vittima della strada nell'Aretino. Ha perso la vita proprio il giorno di Pasqua. Operaio edile, residente nel comune di Monte San Savino, nella frazione di Alberoro, è morto dopo una caduta dalla moto sulla quale viaggiava. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio in via delle Casce a Tegoleto. Secondo quanto emerso, il 47enne si stava dirigendo a casa di parenti per il pranzo pasquale quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Arezzo, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, andando poi a sbattere contro uno dei pali della luce. A lanciare l'allarme è stato un'automobilista che ha notato la moto in mezzo alla carreggiata. Inutile, purtroppo, la corsa dei soccorritori, in questo caso Croce Bianca di Arezzo e Monte San Savino. Al momento dell'arrivo dei sanitari, per l'uomo non c'era più nulla da fare. Dopo il nulla osta, la Croce Bianca ha trasportato la salma del 47enne all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo. Nelle prossime ore verranno decisi i funerali. Una Pasqua amara anche per una famiglia retina che, nel cemitero di Badia Alpino, ha trovato il loculo allagato ed ha dovuto così rimandare la tumulazione. A spiegare l'accaduto sono i familiari con una lettera. Arrivati lì abbiamo trovato la mara sorpresa, il loculo a terra era pieno d'acqua, non abbiamo potuto seppellire mia madre, siamo indignati. L'amministrazione continua la lettera, ha poi trovato una soluzione temporanea. La salma è stata tumulata in un altro loculo, ma i familiari sono affranti perché quello era stato comprato anni prima per consentire alla madre di riposare accanto al marito. Secondo quanto si apprende, il cimitero avrebbe nel tempo presentato problemi di infiltrazioni. Sarebbe stata installata una pompa che probabilmente ha presentato un malfunzionamento. Il comune comunque si è occupato della questione che sarebbe già in fase di risoluzione. E adesso voltiamo pagina per parlare di migranti. Arriva infatti un allarme dalla comunità bengalese sui rischi del decreto Kudro. Questa famosa parola integrazione, integrazione, io poi devo disintegrare? Qual è la formula? Com'è possibile che dopo sette anni della mia vita io mi divento clandestino? A lanciare il grido d'allarme è l'associazione ACB Social Inclusion che da anni presta assistenza ed ascolto ai cittadini stranieri che vivono in provincia di Arezzo. A causa del decreto Kudro che modifica il testo unico sull'immigrazione, tantissimi stranieri che lavorano regolarmente anche sul territorio aretino potrebbero infatti diventare irregolari. Per quanto riguarda l'istituto della protezione speciale c'è stata un'abolizione di quello che è il collegamento tra questo permesso di soggiorno e il percorso di integrazione territoriale. Quindi sostanzialmente adesso la protezione speciale è soltanto collegata a quello che è un rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti nel paese origine. Quindi si perde quella che è la tutela della vita privata e familiare e quindi del progetto di integrazione. I permessi di soggiorno poi sulla base della riforma per protezione speciale non sono più convertibili in lavoro. E' quello poi anche il nodo principale perché una persona che si trova ad oggi con un permesso per protezione speciale lo potrà rinnovare soltanto se c'è un rischio di persecuzione di trattamenti inumani o degradanti e non lo potrà più convertire in lavoro. In teoria sono con il rigetto di quella che è la procedura di rinnovo del premesso di soggiorno sono immediatamente espellibili, quindi allontanabili dal territorio nazionale. Evidentemente questo comunque creerà clandestinità. Molto preoccupati della gente che vengono, dice come è possibile che io ho aspettato per questo premesso di soggiorno tre anni, quattro anni e ora questo non posso più rinnovare. Io ho un lavoro, contratto indeterminato. Nella retina il rischio secondo l'associazione è quello di perdere nel giro di un anno quasi 3.000 lavoratori. Perché sono aziende grossi che ci lavorano tanti operai, sono imprenditori stranieri che fanno lavorare loro operai e ci sono aziende dove lavorano 50-60 operai che lavorano. Sono persone che tutti sono qualche modo con questo premesso di soggiorno. La norma è entrata in vigore l'anno scorso, ancora praticamente per le richieste formalizzate prima di quelle entrate in vigore, ancora si applica la normativa precedente, però già adesso comunque le questure non consentono più la conversione dei permessi di soggiorno. Quindi ecco, gli effetti si iniziano già a vedere ad oggi. Ancora politica, il gruppo consigliare del Partito Democratico Aretino interviene sul tema dell'alta velocità. Più fraccia rossa ad Arezzo. È il gruppo consigliare del Partito Democratico Aretino ad intervenire nuovamente sul tema dell'alta velocità. Il governo Meloni e il ministro delle infrastrutture Salvini vorrebbero realizzare, sbagliando, la stazione alta velocità per la Toscana Sud della regione Umbria a Creti, si legge in una nota. Per quanto riguarda la stazione di Arezzo, ormai da diverso tempo, sia verso Milano che verso Roma, sono diminuite le fermate dei treni frecciarossa ed alta velocità. Nella relazione ministeriale è stato segnalato che la stazione Aretina è un riferimento per l'alta velocità. Al suo interno, proseguono, viene richiamato in attesa della realizzazione della stazione alta velocità dal 2028 in poi, di poter procedere nell'immediato all'individuazione di maggiori fermate di treni frecciarossa e alta velocità alle stazioni di Arezzo e chiusi. Il sindaco di quest'ultima città, in collaborazione con il gruppo consigliare del PD Arezzo, ha inviato una specifica richiesta alla regione toscana per richiamare il governo nazionale Trenitalia all'incremento delle fermate dei treni frecciarossa e alta velocità anche nel capoluogo Aretino. Questo appello, rivolto anche al sindaco di Arezzo, è stato sottoscritto da numerosi primi cittadini della provincia di Arezzo e quella di Siena, ma non da Alessandro Ghinelli, che conclude il gruppo consigliare del PD è impegnato in altro e poco presente in città ed ha deciso di non tutelare Arezzo e gli Aretini. Da questa settimana al via la nuova trasmissione, la piazza speciale elezioni. Nel corso delle puntate vi racconteremo i protagonisti delle prossime elezioni amministrative. La prima puntata andrà in onda venerdì 5 aprile alle 21, ospiti tutti i candidati a sindaco del comune di Cortona. Vediamone un piccolo estratto. Trovati a questo primo appuntamento con la piazza e proprio in piazza abbiamo chiamato i candidati a sindaco, questa volta per il comune di Cortona. È una sfida a 5, quella per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale nel comune di Cortona, Valdichiana-Aretina, uno dei comuni dell'Aretino che va al voto e che superando i 15.000 abitanti potrebbe andare al ballottaggio. Si vota il prossimo 8 e 9 giugno, si contenderanno la poltrona di primo cittadino appunto in 5 candidati, in un clima non proprio sereno. Il sindaco uscente, Luciano Meoni, si presenta con la lista futuro per Cortona, ma a differenza di 5 anni fa non ha il sostegno dei partiti del centro-destra, nemmeno della Lega. Il candidato del centro-destra è invece Nicola Carini che nella legislatura uscente ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio Comunale. Credo che una cosa siano i partiti nazionali, i partiti nazionali con i quali ho rapporti giornalieri, sento giornalmente onorevoli di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia, quindi con me hanno rapporti tutti. Dopodiché i personalismi locali certamente sono rimasto male perché evidentemente la Lega che era stata a fianco nostro sin dalla prima ora portando avanti i progetti importanti, riuscendo ad essere determinanti anche nel 2019 quando abbiamo ottenuto un ottimo risultato, beh, questo certamente non sono un'ipocrita, sì, però non è che... Però si va avanti lo stesso. Si va avanti e sicuramente ne vedremo delle belle, sono convinto, il 9 giugno. Anche a sinistra non c'è una piena unità. Il centro-sinistra, il Partito Democratico, il resto della coalizione, socialisti compresi, e i Cinque Stelle sono con Andrea Vignini, già sindaco di Cortona. Ma c'è una candidata, Verusca Castellani, che si presenta con la lista Uniti a Sinistra. E infine c'è Italia Viva, con Sara Baldetti. Io non capisco chi sono questi che sono uniti, me lo dovrai spiegare prima o poi, Verusca, perché i partiti della sinistra e del centro-sinistra, forse Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, non so chi altro, perché i Verdi non ci sono, Sinistra Italiana non c'è, verranno in campagna elettorale a sostenere la mia candidatura. E intanto quindi qui c'è una ambiguità, lo voglio dire con delicatezza, che deve essere sciolta. Nel primo confronto, registrato negli studi di Arezzo TV e condotto da Carlo Gabellini, è stata la sanità, il tema sul quale i candidati si sono scaldati di più. Ma la battaglia è appena all'inizio. La trasmissione integrale andrà in onda venerdì 5 aprile alle 21 su Arezzo TV, canale 81 del Digitale Terrestre. Tutto quello che è stata la politica del PD negli ultimi anni, parliamo per esempio di sanità, un tema a me caro, la sanità, soprattutto in Toscana, è stata quella di depotenziare tutti gli ospedali del nostro territorio. E questa è stata una politica, che ci piaccia o no, del PD. Gli interventi da fare sicuramente sono importanti, cioè da mettersi a sedere con il Consiglio dei Sindaci e fare un task force, in Regione con l'ASL, con il responsabile ASL. No, perché poi alla fine capisco che chi è stato, chi non è stato, a questo punto proponiamo qual è il progetto. Operazioni intensive e mirate ad incontri per raggiungere degli obiettivi. I problemi strutturali di una rianimazione non li risolviamo per i costi che ha sicuramente, però ci proviamo a risolverli, perché quel pronto soccorso deve essere operativo per tre comuni, quindi deve essere funzionale al 100%. Perché signori, quando andiamo al pronto soccorso non è che ci chiedono la testa del partito. Fortunatamente. Fortunatamente, ma dobbiamo essere sicuri che da quel pronto soccorso verremo smistati nella zona che ci potrà curare meglio, ma sicuramente dobbiamo uscire dal pronto soccorso con le nostre gambe e in maniera efficace ed efficiente, cosa che qualche volta è successo, alcuni episodi, non stiamo qui a scendere nei particolari, dove però c'è stata questa difficoltà. Quindi credo che il pronto soccorso sia la chiave dell'ospedale della Fratto. Fermiamoci un attimo per la pubblicità, torneremo subito dopo. Meoni si è subito presentato per parlare del pronto soccorso. Ed oggi, primo aprile, arriva anche una candidatura del tutto scherzosa, insomma, un pesce d'aprile. A scendere in campo per la corsa sindaco di Castiglion Fiorentino sarebbe infatti anche il fratello di uno dei candidati, Alberto Brandi, fratello di Paolo, ex primo cittadino e ricandidato alla guida della città. Alberto Brandi, noto veterinario appunto di Castiglion Fiorentino, nel suo post sui social, ovviamente ironico, annuncia una barra skyline sulla torre del Cassero, piste da sci a Sant'Egidio con neve artificiale e multe a chi usufruirà di veterinari fuori dal comune. E adesso voltiamo pagina. Questa sera alle 21 torna fattore di ospite della trasmissione, il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca. Vediamone un estratto. Per quanto riguarda la mia esperienza, diciamo, personale, sono rimasta a Napoli appunto fino alla laurea e poi devo dire che però già a quell'epoca avevo le idee decisamente chiare, perché a 18 anni, per un caso fortuito, non avendo alcun precedente familiare, ho conosciuto un prefetto, che era lo zio di un mio amico, mi chiese di accompagnarlo, perché doveva andare da questo zio prefetto, era l'allora prefetto di Bari e ho conosciuto questa persona, mi ha colpito profondamente per il suo carisma, per la sua autorevolezza e quindi in quel momento ho deciso che da grande avrei fatto il prefetto e quindi ho percorso tutte queste tappe, ma con un obiettivo ben preciso e molta determinazione. Passiamo adesso all'economia e con l'obiettivo di reperire manodopera qualificata e pronta ad inserirsi in azienda che la ditta casentinese Polistampa ha avviato dei corsi di formazione all'interno dei propri spazi produttivi. Il percorso è rivolto a candidati inoccupati o disoccupati, otto in tutti i posti disponibili per partecipare alle selezioni e proporsi come aspiranti operai. Il percorso avrà una durata di 32 ore e partirà a fine aprile. E oggi è il giorno di Pasquetta, una Pasquetta bagnata, tanti turisti in città che così hanno scelto i musei aretini. Torneremo a casa, sicuramente con il cuore e gli occhi pieni di bellezza e di arte. È l'amore per l'arte, a portare i turisti ad Arezzo arrivano da tutta Italia, ma non solo, incontriamo infatti una famiglia che arriva dalla Cina. A portare i turisti ad Arezzo è soprattutto la riapertura degli affreschi di Piero della Francesca, il ciclo della leggenda della vera croce conservati nella Cappella Bacci che ha appena subito un intervento manutentivo. Ha una bellissima palette di colori e molto belli come sono fatti chiaroscuriti i vestiti di questo affresco. È emozionante anche perché dicevo a loro che mi ricordano la mia gioventù, li ho studiati alla scuola superiori e ho avuto un'interrogazione su questo, quindi adesso avvicinarmi a questo è stato emozionante. Aperti anche gli altri musei, qui siamo all'archeologico Gaio Cilnio Mecenate e ancora Casa Vasari e il Museo d'Arte Medioevale Moderna. Visite straordinarie anche alla Casa Museo Ivan Bruschi dove è stato possibile ammirare la mostra recentemente inaugurata dal titolo La Libera Maniera. Adesso proseguiamo per Camaldoli, poi Laverna e poi si ritorna a casa. A Cortona invece turista, a chilometro zero, ha chiuso in bellezza e si prepara già ad una nuova serie di appuntamenti. L'idea era un po' di avvicinarsi a un turismo a chilometro zero, chiamiamolo così, no? Quindi di voler presentare questi luoghi alla gente di Cortona ma non solo, quindi di tutto il territorio. Un'iniziativa che devo dire che ha portato veramente un numero molto alto di visitatori. Turista a chilometro zero, sotto titolo della rassegna, chiude in bellezza e prepara una nuova serie di appuntamenti. Cortona Rando infatti è un progetto dedicato ai cittadini per stimolare la conoscenza delle bellezze del territorio che ogni appuntamento ha accolto oltre 100 persone. È stata un'unione di forze, quindi abbiamo lavorato ovviamente il progetto voluto dall'amministrazione comunale che ha visto la collaborazione con Confetercenti e poi abbiamo visto appunto la collaborazione con l'ufficio turistico con Conteiro Gadare in Tascani e Unicoppia Firenze e poi ovviamente noi guide turistiche di Federagit che abbiamo con piacere diciamo dato il nostro sostegno. Lo scorso 30 marzo l'ultimo incontro del tour dedicato alla scoperta dai simulacri cortonesi presente come ospite speciale Paolo Giulierini a cui si deve l'ideazione del progetto. Credo che il tema sia una proposta a costi popolari dei tempi ben cadenzati una ottima comunicazione e poi soprattutto l'approccio diretto con le guide che sanno accompagnare proprio come in un'avventura le persone. Quindi questo essere coccolati all'interno della bellezza dei beni culturali di Cortona a mio parere ha costituito l'arma vincente ed è forse un auspicio per continuare su questa falsariga. Realizzata in un periodo diverso da quello dell'alta stagione turistica l'iniziativa è riuscita a fare il pieno anche quando le condizioni meteo non erano ideali. È andata bene la cosa più bella che tutti hanno apprezzato sia persone del comune di Cortona del territorio sia anche persone di fuori perché abbiamo avuto ospiti anche dalla provincia di Arezzo qualcuno da Firenze e anche dalla vicina Umbria perciò diciamo che siamo proprio contenti è andata bene è stato un bel evento tutti hanno apprezzato molto e già chiedono la prossima edizione. Sempre a Cortona è stata inaugurata la mostra Camucì ha un presente da ricordare un'esposizione con cui l'associazione culturale Cortona Photo Academy celebra i suoi dieci anni nell'occasione è stato anche presentato il libro fotografico edito dall'associazione abbiamo voluto raccontare per immagini la nostra Camucìa frazione più importante e popolata del comune cortonese ricordare cosa è diventato oggi questo paese rappresentare il presente e far pensare al futuro della nostra comunità dichiarato Gaetano Poccetti presidente di Cortona Photo Academy la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19 il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e 30 in via Matteotti a Camucìa Arezzo invece è di nuovo set cinematografico sebbene infatti viga ancora il più stretto riservo su quella che sarà la pellicola che troverà realizzazione in città sono prossime le apertura e casting per le comparse in questi giorni infatti è apparso sul web un annuncio dell'Antonio Spollettini Casting con cui vengono ricercati nuovi volti disponibili a lavorare uno o più giornati in qualità di comparse l'appello è rivolto a uomini e donne di tutte le nazionalità tra i 18 e i 75 anni bambini e adolescenti dei 7 a 13 anni ballerini e ballerine oltre ad un quintetto d'archi o musicisti le riprese prenderanno il via tra il 6 e il 30 maggio alla Casa Pia invece una colomba per ogni ospite per questa Pasqua la vigilia infatti è stata impreziosita dalla visita del quartiere di Porta del Foro che ha rinnovato un gesto di vicinanza e effetto nei confronti dello storico istituto cittadino andando a riproporre un'attesa tradizione delle festività una delegazione giallo-cremisi guidata dal rettore Roberto Felici ha fatto visita alla Casa di Riposo e accolta dalla Presidente Deborah Tessi e dal consigliere con delega al sociale Antonio Rauti ha incontrato alcuni residenti per tornare colombe ed altre golose specialità di questo periodo pasquale e adesso la pagina dello sport il calcio sconfitta di misura per Giamaranto in casa decisiva la rete di guerra alla 29esimo sicuramente sì mi è capitata qualche volta in passato c'è un po' di rammarico perché abbiamo creato tanto penso molto più di loro e ci è mancato quel qualcosina davanti un po' per sfortuna magari un po' potevamo fare meglio noi però comunque sia dobbiamo guardare il lato positivo la prestazione c'è stata e quindi concentriamoci su quello insomma ripartiamo da una buona base e sono sicuro che la prossima girerà meglio senza ombra e dubbio sì ha fatto piacere perché penso che una partita come oggi di più non so cosa dovevamo fare è bello che il pubblico l'abbia notato ha visto che ce l'abbiamo messa tutta che abbiamo creato tanto che poi abbiamo avuto un po' di sfortuna e quindi bene fa piacere un po' si sentiva la mancanza del calore degli ultrami però giustamente insomma loro perpetuano la loro causa la loro causa ma io penso penso di no penso che teniamo sempre la stessa linea cerchiamo di andare in campo e di vincere tutte le partite ora ancora più spenseratamente perché l'obiettivo principale è stato raggiunto quindi cerchiamo di vincere tutte e basta poi va come va una sconfitta una sconfitta di misura anche per l'Arezzo calcio femminile a Parma in vantaggio con Nichelle dopo 10 minuti Parma Woman subisce poi il ritorno delle ragazze Amaranto che hanno pareggiato con Razzolini al 76esimo infine un rigore siglato da Beila nel finale porta le padrone di casa a superare l'Arezzo calcio femminile sentiamo l'allenatrice Ilaria Leone prendere gol gli ultimi 5 minuti fa male tanto male perché comunque le ragazze nel secondo tempo si meritavano questo pareggio poi ci sta anche la vittoria però più il pareggio che comunque il Parma aveva fatto un gran primo tempo mi dispiace della nostra prestazione del primo tempo perché non avevo chiesto quella prestazione lì e quindi poi dopo il secondo tempo mi sono un po' tra primo e secondo tempo mi sono un po' arrabbiata e lì è uscita la squadra però non deve più succedere questa cosa di concedere un tempo sì purtroppo io non credo nell'approccio il problema è stato proprio la paura loro di una squadra secondo loro forte ma noi ci si giocano tutte non c'è forti non c'è deboli ci si giocano tutte le partite perché le partite iniziano tutte dallo 0 a 0 e anche noi siamo una squadra forte in cui ci si può lottare ogni partita e questa partita l'abbiamo dimostrato quello che purtroppo mi rammarica sempre è aver concesso questo primo tempo per aver paura delle avversarie questo non deve più succedere perché se no sono cavoli per quanto riguarda invece Saranasoni e Palatadei sono contentissima di come sono entrate ma sono ragazze che comunque meritano e hanno visto e abbiamo tutti visto anche oggi che ci possono stare quindi sono veramente contenta per loro Clara è un portiere comunque giovane perché ricordiamoci è sempre un 2004 quindi ci può stare che si può commettere anche qualche errore noi chiediamo personalità e quella l'ha avuta oggi è anche tanta e quindi sono contenta della prestazione che ha fatto ma come dicevo sono contenta della prestazione che ha fatto tutta la squadra nel secondo tempo meno quella del primo purtroppo Questa era l'ultima notizia per stasera vi ringrazio per l'attenzione arrivederci